Buongiorno a tutti, benvenuti alla cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Luca Attanasio. Il sindaco insieme alla signora Zakiya Sedditi Attanasio e ai signori Attanasio procede allo scoprimento della targa. Luca ha rappresentato l'Italia e ha rappresentato il corpo diplomatico, secondo me e secondo tutti gli italiani, nel fatto che possiamo dire che siamo orgogliosi di essere italiani. Grazie a te. Grazie a te. Vabbè, intanto la ricerca della verità, della sensibilità, non c'è giustizia, non c'è giudizia di un ambasciatore a tempo di pace. Credo che per una nazione come l'Italia sia un evento non solo tragico, ma che dovrebbe, diciamo, rendere attento tutte le istituzioni finché si giungerà l'evento. Ecco, domani la festa della Repubblica ha il suo figlio, è un servitore dello Stato e tutti gli effetti, no? È remoto da servitore dello Stato. Come vuole che sia ricordato? Non sta bene. L'idea ti ha messo. Certamente per lui era un uomo servitore dello Stato, era una persona che credeva, nei valori della nostra Costituzione. Quindi certamente se io vi vengo e vengo avese, le amore che si meritano sono tutti.